Le telecamere di Teleappola sono alla Masseria La Meridiana per seguire un seminario sui disturbi specifici dell'apprendimento. Ne parliamo con il dottor Stella. Con il dottor Giacomo Stella per quanto riguarda un seminario importante, i disturbi dell'apprendimento. Quanto è importante e come si fa a riconoscere nei primi anni di vita di un bambino? I disturbi dell'apprendimento sono un tema molto importante perché hanno una prevalenza nella popolazione scolastica superiore al 5%. E quindi vuol dire che se noi consideriamo che vanno a scuola tra i 6 e i 18 anni in Italia circa 8 milioni di studenti, ce ne sono 400 mila che hanno delle difficoltà che dipendono da piccole anomalie dell'organizzazione corticale. E cioè sono le cosiddette neurodiversità. Come riconoscerle? Come riconoscerle in età scolare ormai è un dato abbastanza assodato perché ci sono molti strumenti di screening che vengono proposti agli insegnanti. E la legge 170 che è proprio la legge che regolamenta la presenza dei bambini dislessici nella scuola e nell'università, gli studenti dislessici nell'università, affida alla scuola la necessità di fare gli screening. Quindi dice ci sono gli strumenti di screening, fate gli screening. Il problema di cui stavamo discutendo oggi pomeriggio è come si può individuare prima della scuola. Perché se si individua prima le possibilità di potenziamento e quindi di riduzione del gap che un bambino sperimenta quando va in classe sarebbero in effetti molto importanti. Quindi un genitore come si deve comportare? Beh, noi oggi sappiamo, deve essere rivolto a una maggiore attenzione alla scuola di infanzia. Sappiamo che per esempio la competenza linguistica del bambino è molto importante e quindi bisogna fare attenzione a come parla un bambino. Se ci sono anche piccole alterazioni nelle parole dopo i quattro anni queste non sono più accettabili o comunque hanno la necessità di ottenere l'attenzione degli specialisti, pediatri e specialisti perché il bambino che dopo il compimento del quarto anno di età ha ancora dei disturbi espressivi, cioè pronuncia male le parole, a parte il rottacismo, la famosa R che aveva, quella non conta. I bambini però che dopo il compimento dei quattro anni presentano ancora tipo invece che dire scarpa dicono cappa hanno l'80% di probabilità poi di sviluppare una dislessia nel corso della scolarizzazione e quindi bisogna intervenire, bisogna intervenire per fare in modo che quando il bambino va a scuola abbia fatto dei passi avanti importanti e non che arrivi a scuola con un ritardo che si è ampliato invece che ridotto. Quindi questo è molto importante. Un metodo per iniziare? Un metodo per iniziare sarebbe quello di, diciamo, intanto c'è bisogno di molta formazione, no? La scuola è in grado di dare questa formazione ai bambini anche? Gli insegnanti sono preparati, la scuola italiana primaria è sempre stata considerata una delle migliori scuole in Europa non sono tanto preparati quando incontrano bambini che non imparano proprio perché siccome imparare a leggere e a scrivere in italiano è facile nessuno si è mai peritato di insegnare agli insegnanti come si fa quando i bambini non imparano E come comportarsi? Beh, come comportarsi? Bisogna avviare delle strutture che supportino la scuola in questa fase perché è contemporaneamente fare formazione alla scuola Con la sociologa Vittoria Taffuno una giornata importante è questo per un argomento importante, parliamone Eh sì, è importante perché come diceva il professor Stella il 5% accertato hanno difficoltà di disturbi specifici dell'apprendimento solo quelli accertati, poi ce ne sono ancora tantissimi che non sono ancora riconosciuti e per l'età e anche perché le strutture scolastiche o familiari non hanno ancora provveduto all'accertamento quindi è veramente importante aiutare gli insegnanti e le famiglie di intervenire precocemente per dare la possibilità a questi bambini certi di non diventare alti o basi però di avere una capacità di affrontare la realtà e il proprio disturbo con serenità perché vivere in benessere è molto importante Come si pone la società? La società ancora non le riconosce questo disturbo specifico dell'apprendimento e ancora insiste sui bambini che sono pigri, non volenterosi, distratti ma anche le istituzioni scolastiche non sono ancora pronte bisogna formare in sé concorsi di formazione come questi ed altri gli insegnanti ma anche i genitori